Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, vi ho fatto ascoltare anche un pochino di rock'n'roll in apertura perché ci sta sempre bene. Siamo in diretta multipiattaforma, ovvero Twitch, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Potete vedere quindi quello che state vedendo qua un po' ovunque, ovviamente poi il video lo rivedrete su YouTube o ovunque desideriate vederlo. Oggi parleremo, e adesso inviterò immediatamente il mio ospite perché è lui il protagonista della giornata, di Black Friday. Sappiamo tutti che a breve arriverà il Black Friday, sappiamo che a fine novembre la data cambia in base ovviamente al calendario. e il Black Friday è un'occasione straordinaria per gli e-commerce per riuscire in qualche modo a vendere. Perché alla fine siamo tutti qua per questo, vendere il più possibile. Di conseguenza è importante capire due cose in riferimento al Black Friday. Uno è che cos'è successo fino ad oggi, cioè dati e informazioni riguardanti tutto quello che è accaduto fino ad oggi. La seconda cosa è individuare e riuscire a fare delle previsioni per capire che cosa accadrà in questo Black Friday. Perché veniamo fuori da un periodo storico incredibile che è quello della pandemia. L'anno scorso c'è stata un'esplosione, poi non vi voglio fare spoiler, un'esplosione per quello che riguarda le vendite online. Ma che cosa succederà quest'anno? Ecco, insieme a Roberto Fumarola, amministratore delegato e co-founder di Kaplà, oggi cerchiamo di capire attraverso un web paper, un documento che parla appunto di che cosa è accaduto, di che cosa capiterà, di capire questo mondo dell'e-commerce, come sta evolvendo, come si sta muovendo. Quindi a questo punto io invito subito Roberto ad entrare con me. Eccolo qua, togliamo questo sfondo immediatamente. Madonna santa, ci sei Roberto? Ci sei? Mi senti? Roby? Oddio, mi si è frizzato Roby. Ragazzi, intanto voi ditemi se dalle chat vi vedo. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao Leo. Roby, ci sei? Ci sono, credo di avere qualche problema di connessione. Dimmi se mi senti bene. Adesso sì, eri frizzato ma sei tornato da noi. Allora, intanto, grazie, benvenuto. Vedo che cominciano ad arrivare i primi commenti, quindi vuol dire che le persone ci vedono, ci sono. Non siamo solo io e te. Allora, ci tengo a precisare una cosa. Potete esporre le vostre domande mentre noi parliamo. Qualunque dubbio o perplessità voi abbiate, la potete tirar fuori mentre stiamo parlando. Perché vi dico questo? Perché questo non è un incontro autocelebrativo, ma è un modo per far sì che le aziende che si approcciano ad un e-commerce possano vendere di più. Quindi, se avete dei dubbi o delle perplessità, li potete esprimere nei commenti sui social, ovunque voi siate in questo momento. Io fra un po' li metterò in sovrimpressione, quindi voi stessi vedrete i commenti che andate a fare. Roby, benvenuto. Esatto. Grazie, grazie mille e grazie per l'invito, per avermi dato questa opportunità. Ciao a tutti. Grazie a te. Intanto, guarda, metto in overlay i commenti che stanno già arrivando, che dovremo vedere da questo momento in poi. Sì. Intanto provo anche a togliere... Voglio mettere uno sfondo che sia figo. Tipo una roba un po' colorata, o roba di questo genere, no? Così, ecco, un po' colorata. Che così almeno io e te siamo all'interno di un ecosistema colorato. Sapete, ragazzi, che queste qua sono le dirette e le dirette hanno sempre un pochino di improvvisazione. Secondo me è anche la parte bella. Allora, Roby, abbiamo detto che voi avete stilato una sorta di... No, una sorta. Un white paper, cioè una sorta di documento in cui traete le somme di quanto accaduto gli anni precedenti, in particolare l'anno scorso, e di che cosa potrebbe accadere quest'anno. Se vuoi un attimo raccontarci come avete fatto a tirar fuori questo documento, che cosa ve l'ha fatto fare, che cosa vi ha spinto. Chi ce l'ha fatta fare, insomma. Chi ce l'ha fatta fare, esatto. Allora, come Kaplan, noi ovviamente gestiamo milioni di spedizioni al mese, quindi nel periodo natalizio ovviamente ci sono i picchi, e sono di più in termini numerici il numero di spedizioni che riusciamo a gestire. Da questo numero e dalle informazioni legate alle spedizioni, come per esempio i tempi di consegna e tutte le altre informazioni che possiamo ricavare, su due anni, quindi 2019-2020, siamo andati a tirare fuori un po' quello che è successo durante il periodo del Break Friday per capire anche se potevamo fare una stima di quello che poteva succedere questo 2021. Lo abbiamo fatto perché, ovviamente da curiosi quali che siamo, vista l'eccezionalità del periodo nel quale abbiamo vissuto negli ultimi due anni, ci siamo chiesti se e quali potevano essere stati i discostamenti tra il 2019, che non era un anno di pandemia, e il 2020, dove abbiamo avuto tutte le metriche completamente sballate. E poi appunto fare delle ipotesi per capire quest'anno come potrebbe effettivamente andare. Quello che è venuto fuori... Hai visto che stanno arrivando i commenti, ma non mi hanno chiesto l'interruzione. E tra l'altro sarebbe utile sapere chi è CapLine in un minuto, anche perché hanno ragione, anche perché tu hai detto che gestiamo tantissime spedizioni, ma in che forma? Cioè, le sposti tu, raccontaci. Allora, prima di tutto non siamo un corriere. Siamo un'applicazione che fa da integratore di sistemi tra i corrieri e l'e-commerce, tipicamente. Quindi noi, le spedizioni di cui stavo parlando prima, che andiamo a gestire, sono le spedizioni dell'e-commerce che vengono veicolate ovviamente tramite i corrieri. Ma quello che facciamo noi è da, diciamo, trade union tra i due mondi, tra il mondo dei vettori e il mondo dell'e-commerce. Siamo un agevolatore che permette di spedire più velocemente all'e-commerce, avendo tutti i dati già in pancia e già pronti, e potendo monitorare anche tutto il percorso che fanno i pacchi da quando partono dal magazzino fino alla consegna, con relativi messaggi che poi inviamo agli utenti finali, ma questo magari lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo perché poi io l'ho letto il white paper e c'è una parte che mi ha colpito particolarmente, che è quella che, alla fine il prezzo, ci tengo a precisarlo fin da subito, il prezzo non è l'unica discriminante in base alla quale si compra online. Vero. Perché potrebbe sembrare l'unica, in realtà ovviamente è una, ma non è l'unica, è il customer care, il customer journey, tutte queste cose qua stanno diventando sempre più importanti, scuso l'inciso. No, no, è assolutamente vero, il prezzo non è assolutamente l'unica discriminante per l'acquisto degli utenti, anzi lo è nella misura, cioè per alcune fette di clienti, per alcuni prodotti, ma non per tutti. Quello che noi consigliamo sempre è di non basarsi sul prezzo come unico driver per la crescita del proprio e-commerce, perché altrimenti si rischia di fare il gioco dei big, cioè di quelli che possono effettivamente sbaccare sul prezzo e non si sta facendo un buon servizio né al mercato, ma né alla propria società. Sbaccare sul prezzo. Esatto. No, beh, hai ragione perché... Termine tecnico. Tecnicissimo. Alla fine ragazzi, pensiamoci un attimo e poi ti lascio nuovamente la parola. Noi non possiamo competere su certe cose, oggettivamente non possiamo competere su certe cose. Uno di queste probabilmente è il prezzo, in certi termini, in certi settori, su certi prodotti. Purtroppo la maggioranza dei clienti si è abituata alla velocità di consegna di Amazon, oggi per subito, dice Carlo. In effetti è così. Questo è vero. È un valore che viene restituito al cliente, ma per esempio io in questi giorni ho anche sentito dire mi piacerebbe poter scegliere il tempo di consegna e in base a quello anche poter scegliere per esempio un eventuale prezzo o cose di questo genere. Quindi la velocità di consegna anche la velocità di consegna non è un sine qua non da un certo punto di vista. Sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, anche perché ci sono alcuni acquisti che effettivamente, dove effettivamente la velocità di consegna è assolutamente utile. Si pensi a, che ne so, a materiali di consumo, oppure a determinati prodotti come possono essere i farmaci, il fresco, il food in generale. Ce ne sono altri dove l'utente può tranquillamente adattarsi. Quindi quello che dico sempre io è che più che dare tempi di consegna più stretti possibili, anche perché su Amazon, visto che l'hanno citato, non ci si può arrivare allo stesso livello di servizio per ovvi motivi. L'importante però è essere chiari. Quindi dire a un cliente che quel prodotto lo avrà entro 24, 48 ore, 72 o quello che è, o entro una settimana, già è un valore che si sta passando al cliente. Puoi stare al cliente a decidere se quel tempo è giusto per lui o meno. Un'altra cosa che sta venendo fuori in maniera abbastanza importante ed è uno dei motivi per cui un colosso come Poste Italiane si è comprata Milkman, cioè ultimamente, qualche mese fa. Che cos'è Milkman? Milkman è un corriere che ha lanciato in Italia praticamente per primo la possibilità di selezionare non solo il giorno di consegna, ma anche la fascia oraria. Ah, ok. E operano in alcune città. Poste se l'è praticamente comprato sia a livello di infrastruttura ma soprattutto a livello tecnologico perché dal lato consumatore questo qui è un valore molto importante da potersi spendere. Proprio per quello che si diceva prima, cioè non è detto che per me oggi per domani sia la tempistica giusta, magari perché domani non posso ricevere il prodotto, quindi preferisco averlo dopo domani o magari anche il sabato. Il sabato sono a casa e preferisco radunare tutti gli acquisti magari nel weekend, le consegne nel weekend. Ci sono anche questi casi qui. Da un certo punto di vista non so se sei d'accordo, ovviamente ragazzi per noi è una chiacchierata tra me e Roberto e quindi potremmo non essere allineati su alcuni punti, non è che abbiamo fatto le prove prima per capirci. È un po' lo stesso principio per il quale hanno tanto successo i locker di Amazon perché sei tu a decidere quando vai a ritirare piuttosto che a il corriere e a decidere quando passare da te. Vi ricordo ragazzi che potete scaricare il white paper gratuitamente al link che trovate in descrizione ovunque voi siate in questo momento oppure scrivete a Roberto, scrivete a me sui social, insomma potete scaricarlo in maniera del tutto gratuita ed è molto molto utile. A proposito di questo white paper io ho un dato davanti poi dopo se vuoi lo mostriamo Roby. Allora, nel mese del Black Friday due settimane prima e due settimane dopo del 2020 abbiamo registrato un aumento del 73% delle spedizioni rispetto al 2019. Sì. Questo dato qua come lo possiamo leggere e che cosa succederà in prospettiva? Vuoi mostrare il white paper? Intanto dimmi tu. Sì, sì. Sto già condividendo il documento. Allora, avviso ai ragazzi che stanno commentando che metto tolgo un attimo le chat in overlay metto il documento ma io comunque le chat continuo a leggerle quindi vedo che Leonardo Prati eccetera hanno fatto domande e non le lasciamo indietro nessuna però semplicemente condivido il documento lascio un po' di spazio al suddetto. Prego, Roby. Sì. Allora, il dato che citavi tu che era quello del 72,8 quindi quasi 63% di aumento 2020 su 2019 il dato va letto in questo modo eravamo in piena pandemia negozi chiusi per la maggior parte gente con mobilità limitata è ovvio che l'e-commerce ha segnato un aumento fuori scala quindi sicuramente la cosa che ci possiamo portare a casa è che l'e-commerce di per sé in Italia ma non solo ha fatto un balzo di almeno 3-4 anni in avanti come termini di sviluppo di mercato e di potenzialità e di ingresso nelle abitudini d'acquisto delle persone e questo è stato rilevato da tutto quello che è successo nel 2020 ma anche nei primi mesi del 2021. L'anno scorso nel Black Friday questa impennata qui è legata proprio a questo poi sotto nel white paper ci sono anche indicati quali sono i settori che sono crescenti Ecco, raccontacelo un po' se ti va perché ripeto lo trovate lo potete scaricare il link è trovato in descrizione però intanto visto che abbiamo Roberto qua l'ha scritto loro è come avere il nome della rosa e Umberto Ecco insomma Oh mio Dio che confronto No, no, no tu sei vivo No, no, vabbè tutto è quello Allora la cosa importante da vedere è che alcuni settori hanno performato meglio di altri credo anche per una questione di opportunità cioè il fashion di base è un prodotto che normalmente si va a provare nei negozi l'anno scorso dove non potevano entrare le persone nei negozi soprattutto a provare l'uso dei camerini in reinibito cioè c'è tutta una serie di cose che sono successe nel mondo fisico che poi ovviamente vanno a giustificare questo tipo di dato l'altro settore che ha trainato tantissimo è stato quello del food e del wine and beverage vuoi perché c'era ancora parte dei locali chiusi e comunque c'era la possibilità limitata di accedere a questi beni fuori dal sugli altri negozi o comunque anche sui ristoranti o sulla ristorazione quindi soprattutto per foraggiare le feste in casa a questo punto perché le abbiamo passate in casa l'aumento di alcolici in generale o di beverage e di food è aumentato in maniera davvero esponenziale è stato un boom fuori scala rispetto all'anno prima questo da un certo punto è un bene perché come dicevo prima ha permesso di entrare a questo tipo di acquisti che normalmente non facevano parte degli acquisti standard dell'utente italiano soprattutto il food dove noi siamo la patria del buon cibo alla fine fine alla fine anche in un negozio della GDO si trova comunque del cibo di qualità pensa ai vini all'olio o altri prodotti quindi la disponibilità è abbastanza ampia ovviamente avendo limitate possibilità di uscire a quel punto le persone si sono rivolte online dicevo è un bene perché si è istituita un'abitudine cioè il fatto che se io compro online del cibo questo alla fine mi arriva le persone si sono in qualche modo fidate e continueranno a farlo in futuro se ordino qualcosa poi mi arriva però posso intervallare il tuo racconto con qualche domanda che così assolutamente si proviamo a metterle in overlay mentre tu condividi vediamo che cosa succede vai non è esploso nulla non è esploso nulla però in effetti prende solo quelle nuove quindi non si vedono e quindi te le dico io allora Simone Funghi scrive salve in questo documento mancano i nuovi acquisti finanziari i conti correnti le policy gli investimenti sottoscritti attraverso modalità digitale è una scelta vostra o le banche e le imprese di investimento non hanno fornito i dati ma vorrei più che altro dire a Simone che la nostra analisi esatto è fatta sulle spedizioni non è un osservatorio come quelli del Politecnico quello di Casaleggio dove vengono fatte delle interviste noi abbiamo analizzato i dati reali che abbiamo in pancia e soprattutto sono dati relativi al e-commerce non trattando e non lavorando ovviamente con aziende che fanno servizi perché non c'è niente da spedire non abbiamo questo tipo di dati perfetto te ne faccio un'altra poi ti lascio andare Leonardo Prati è una bellissima domanda questa qua che ti avrei fatto io per fortuna l'ha fatta lui quanto pesa sulla decisione finale d'acquisto la possibilità di reso del prodotto quindi quanto è importante e allora come dato statistico ovviamente non ho non ho il dato sotto mano aggiornato da ricerche perché questa qui è una cosa che di solito si gestisce con ricerche su interviste posso dire che varia da settore a settore in maniera importante tipo nel settore del fashion il fatto di non avere reso o di non chiaro perché il reso va dato per legge o il reso gratuito ben in evidenza è un fattore abbastanza discriminante da questo punto di vista che abbassa la possibilità di acquisto da parte delle persone ci sono altri settori dove la possibilità di dare il reso gratuito non gliene frega più di tanto per esempio nel caso del food dove difficilmente si rende il cibo perché al massimo si aprono delle contestazioni ma non glielo rimande indietro infatti quindi gestisci in un altro modo idem vale per il settore beauty dove l'incidenza del reso è scarsa del 2% normalmente sul settore del fashion l'incidenza del reso è più alta in Italia varia tra l'8% e il 15% massimo a seconda degli store e delle condizioni in mercato molto molto interessante quindi è il reso anche qua cioè è importante capire anche che non esiste un sine qua non assoluto ci sono dei rivoli e in base a quello che vendiamo in sostanza abbiamo una sensibilità diversa dalla parte proposta stanno arrivando altre domande ma sì ho visto Andrea esatto se vuoi posso risponderli certo prego leggiamo la domanda leggila vai dalla vostra posizione avete visto crescere grandi corrieri strutture fatturato o avete visto nascere nuovi player corrieri innovativi allora devo dire che questo è un momento fantastico per quanto riguarda il settore della logistica proprio perché si stanno moltiplicando le opportunità per tutti grandi e piccoli ma soprattutto per i piccoli di emergere ora più che piccoli innovativi ho fatto prima l'esempio di Milkman che è un corriere che è nato 4-5 anni fa in Italia come servizio e ripeto Milkman ha come suo core business la possibilità di schedulare gli appuntamenti di consegna sia come giorno che come orario che è stato comprato poi da poste italiane quindi il colosso ha visto ovviamente l'opportunità e se l'è portato a casa ma ci sono altri corrieri che stanno nascendo che gestiscono soprattutto l'ultimo miglio come possono essere per esempio PuniU o altri che hanno anche diciamo consegna con mezzi ecologici elettrici in centro città quindi ci sono tutta una selva di nuovi piccoli e medi corrieri che stanno nascendo che offrono servizi innovativi e che stanno andando a insinuare in un mercato diciamo controllato dai big dai dinosauri anche perché i big spesso non hanno questa elasticità di testare di provare nuove modalità di consegna piuttosto lo fanno fare agli altri poi si li comprano come è successo nell'esempio di più non è una brutta cosa e non è una brutta cosa se si è quelli comprati quindi la prima lezione di oggi è facciamoci comprare dai big che è sempre una buona cosa allora se vuoi andare avanti a raccontare poi o preferisci rispondere alle domande perché vedo che mi arrivano lo so che le vedi anche tu dimmi tu cosa sì sì per il momento posso andare avanti perfetto perfetto perché è interessante poi il wait paper ripeto scaricatelo nel link in descrizione oppure scriveteci l'avete gratuitamente e l'altro aspetto molto interessante anche come confronto rispetto all'anno scorso è stato l'impatto sulla parte di customer care perché ovviamente con la consegna o meglio con l'aumentare dei volumi le reti anche quelle dei corrieri più grossi e l'anno scorso ne abbiamo viste di ogni apro e chiude una piccola parentesi l'anno scorso subito dopo il black friday quindi nella settimana successiva la prima e la seconda di dicembre ci sono stati molti corrieri anche molto molto corrazzati che sono andati completamente in crisi mistica perché visti i volumi e il 72% non era assolutamente nelle loro previsioni come aumento di volumi da gestire sono andati in tilt perché i pacchi che vengono spediti da un e-commerce poi devono essere consegnati per essere consegnati c'è bisogno di furgoni e di personale se il personale è quello alla fine arriva a tappo quindi ci sono stati dei periodi un paio di settimane prima di Natale dove i vettori anche quelli grossi dicevo addirittura hanno bloccato sia i ritiri da parte dell'e-commerce sia le consegne oddio le consegne no verso gli utenti finali erano semplicemente in ritardo però hanno bloccato completamente i ritiri per evitare che collassassero completamente le loro reti di distribuzione abbiamo visto code di camion lunghissime anche in Germania e in Francia ferme davanti ai depositi dei vettori perché aspettavano il loro turno per scaricare la merce che doveva essere poi stradata quindi questo lo dico per evitare il solito approccio del eh ma noi in Italia non è stato una cosa italiana solo italiana esatto la ricaduta c'è stata in tutto il mondo in Europa in particolare perché l'abbiamo osservata in America non ho visto eh notizie particolari ma eh tranne i ritardi di consegna che comunque abbiamo rilevato anche noi quindi quelli che dicevo io quello che dicevo io è che eh con ritardi nelle consegne il customer care dell'e-commerce ovviamente sotto stress perché gli utenti chiamano per sapere quando la spedizione verrà consegnata l'anno scorso eh c'è stato in realtà un 33% di problemi eh in meno proprio nel nel periodo del Black Friday eh in generale i problemi grossi li abbiamo avuti soprattutto soprattutto dopo eh questo probabilmente perché si erano comunque organizzati per reggere un'onda d'urto il problema è che l'onda d'urto quella vera e propria lo tsunami è arrivato la settimana dopo le due settimane successive e altra cosa interessante che abbiamo rilevato sono i tempi di consegna che eh ovviamente sono aumentati eh nell'ordine di poco o almeno quello che si vede qui dai dati eh la media sembra di poco conto ma in effetti non lo è perché questa è la solita media del pollo quindi ci sono stati alcuni vettori che hanno performato un po' meglio o in linea altri che davvero hanno fatto hanno ritardato di diversi giorni quindi si è passati da un tempo di consegna medio pre Black Friday nel 2020 di 3 eh punto due giorni eh lavorativi a ben 3,6 che ripeto sembra poco ma vi assicuro che non lo è sui grandi numeri è un 15% più o meno no? Sì sì è un 15% non è una bagianata no 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 questo vuol dire che ci sono state più persone che hanno chiamato i vari customer service per sapere dove si trovassero i propri ordini i propri pacchi da consegnare e invece nel 2019 come vedete più o meno è stato in linea il numero di giorni eh pre e Black Friday perché comunque le strutture si erano dimensionate e attrezzate di conseguenza e non so se ci sono altre domande aspetta che passo no no non ci sono niente stanno discutendo tra loro alcuni sì ho visto ma va benissimo va benissimo così esatto Maria Luisa e Paola ma insomma ragazzi se avete delle domande da fare a noi noi siamo qua se volete discutere tra voi fate benissimo perché siamo sui social è il posto giusto credo che si stessero cioè che stiano parlando del fatto che Maria Luisa all'inizio aveva detto l'e-commerce non decolla in Italia e faceva riferimento al mio frizz che comunque è stato dovuto al mio telefono perché non l'avevo messo in modalità aereo e aveva deciso in quel momento di caricare sulle foto ah dannazione il cloud è una fregatura esatto quindi l'ho switchato sul 4G e non sulla rete domestica e tutto magicamente è tornato a funzionare no no ma infatti sì avevo immaginato che si fosse mi era sfuggito questa parte iniziale della discussione vai pure perché dopo poi vorrei anche parlare velocemente di contrastegni se ne voglia però perché mi piace questa cosa ok allora una delle cose importanti che abbiamo visto è che diciamo vale la pena sfruttare in questo momento di picco è la possibilità di distinguersi proprio con la delivery experience proprio perché è un periodo critico e le persone stanno aspettando in qualche modo il pacco che le arrivi a casa è importante utilizzare in questo periodo tutta una serie di attività che magari automatizzando o ottimizzando tutto il processo di informazione verso i clienti finali permette di ridurre il carico sul customer care perché con un aumento come è successo l'anno scorso del 70% nel periodo caldo degli ordini io non posso avere come e-commerce un customer care dimensionato sempre per gestire quei volumi tantomeno posso portarmi a bordo degli stagionali tra virgolette che mi gestiscano questa parte qui quindi eh no quindi l'ideale è mettere in pista dei sistemi che permettano di abbattere in qualche modo queste richieste di informazioni sui bacchi sì per esempio noi quello che facciamo è inviare le mail transazionali sull'avanzamento del pacco o comunque è un servizio che offrono anche i corrieri anche se non è personalizzabile per quanto riguarda la parte di grafica e utilizzando questi sistemi in maniera virtuosa quindi attivando le informazioni verso i clienti sullo stato di avanzamento del pacco quello che noi abbiamo rilevato è un crollo del circa 50% delle richieste al customer care su questo argomento qui considerando che il 70% delle richieste al customer care è su quell'argomento lì quindi dove si trova il mio pacco capirai che il volume di richieste che possono essere evitate è notevole in questo modo il customer care si può dedicare a roba più interessante magari al pre-sales che serve per dare la spallata finale all'acquisto o al post-sales nel caso in cui ci siano problemi magari legati anche alla possibilità di fare un reso quindi è meglio dirigere le risorse su qualcosa di maggior valore e far fare sistemi automatizzati magari personalizzando le comunicazioni il lavoro sporco ecco chiamiamolo così a proposito di lavoro sporco c'è una domanda di Leonardo Prati che oggi è scatenato e ne sono felice ciao Leo che è una domanda per niente scontata anche qua perché insomma dice Kaplan prevede anche una sorta di feedback sul corriere tipo recensioni pensando a quei corrieri con camion rossi dice che non gode di ottima di ottima reputation cioè io proprietario di e-commerce posso scegliere su quale corriere appoggiarmi? Allora al momento ancora no nel senso che noi abbiamo i dati in pancia da anni però lì stiamo iniziando ad elaborare in maniera strutturata adesso come si vede da questo white paper per dare delle indicazioni un po' più chiare la giustificazione del fatto che non l'abbiamo ancora è perché comunque i vettori solamente negli ultimi due anni realmente anzi nell'ultimo anno e mezzo hanno iniziato a dare anche delle informazioni puntuali sull'istate di consegna e strutturate nella maniera corretta quindi che riusciamo a recuperarle via API in maniera anche abbastanza veloce prima purtroppo il dato non era così veritiero e così strutturato una cosa che posso aggiungere a quello che chiedeva Leonardo e che a breve introdurremo comunque anche il feedback da parte dei clienti che diranno in qualche modo con la faccina tipo quella della pubblica amministrazione esatto le tre faccine come si sono trovati con il vettore questo ovviamente non è un dato oggettivo ma è un dato soggettivo però può far parte di un rating del vettore che potrebbe essere utilizzato poi per capire in una determinata zona perché ho visto che mi citava un corriere in particolare ma devo dire che i problemi ce li hanno un po' tutti chi più chi meno e variano da zona a zona dipende molto dalla filiale dal personale perché alla fine sono persone che stanno dentro il camion che gestiscono sono quelle che fanno la differenza ci sono alcune domande però vedo che Kapla stessa sta rispondendo ad alcune di queste quindi se vuoi andare avanti con il documento poi dopo facciamo qualche altra domanda che ne arrivano sono interessanti sì sì ok allora sempre sul documento per riprenderlo c'è l'analisi interessante sul Black Month quindi nel mese di novembre quali sono i giorni migliori per gli utenti per comprare quello che abbiamo rilevato ora a parte il venerdì che poi è il Black Friday in generale questa è una rilevazione su tutto il mese ed è una media quello che è venuto fuori è che i giorni nei quali i clienti sono più predisposti a fare gli ordini sono il lunedì e il venerdì quello che si nota questa rilevazione per noi è importante per una questione di marketing nel senso che se io sono un e-commerce e capisco qual è il giorno ideale magari il mio settore perché poi questo cambia anche per settore ma non è questo il report dove abbiamo evidenziato questa cosa ne abbiamo un altro tra l'altro che evidenzia i giorni di settimana diversi per settore posso iniziare a a schedulare le mie attività di marketing come banalmente una newsletter o delle offerte in concomitanza con il giorno nel quale l'utente è più predisposto a fare gli acquisti sul mio sito se io so quando compra posso stimolarlo posso tirare posso cercare di portarlo nella mia rete per spingere all'acquisto con un'offerta magari dedicata una cosa interessante che viene invece certificata da questo report qui è che spesso sento dire che non vengono fatte operazioni di sabato di domenica nel weekend perché la gente acquista poco ora il 12% quasi il 13% la domenica non è poco considerando che gli altri giorni sono il 14% quindi non c'è neanche tutta sta differenza Robi sono come quelli che dicono che la gente non usa il social sabato e la domenica perché ha altro da fare no no sabato e la domenica stai sul divano e spesso hai un telefono in mano con social e commerce eccetera esatto ma magari lo utilizzi in un altro modo quindi magari non parli su LinkedIn però su Facebook o su Instagram ho dei dubbi su LinkedIn ormai si va sempre però sì il concetto è questo qua e quindi anche il weekend comunque sono delle occasioni interessanti per fare le vendite anche solo per dire mi faccio trovare preparato per il lunedì per le mie offerte visto che poi lunedì la gente ha quel picco di consumo cioè di acquisto durante la settimana ha un po' più di tempo semmai è un altro grado di attenzione un po' diverso è attenta più a un certo tipo di cose e ha un po' più di tempo quindi anch'io penso che l'attività del sabato e domenica debba sempre essere fatta al di là delle commerce il mondo digitale in genere cioè ormai non viviamo più in un mondo fatto di lunedì fino a venerdì e sabato e domenica viviamo in un mondo fluido come tutto diventato fluido oggi tutto fluido H24 è costantemente up and running l'altra informazione interessante che abbiamo portato a casa per l'Italia poi vi faccio vedere anche la differenza nel mondo perché sono anche interessanti è interessante anche vedere quello che succede fuori dai confini nazionali sono le date che hanno fatto più ordini nella stagione natalizia dell'anno scorso ovviamente c'è il 27 novembre che era il Black Friday il 30 novembre che era il Cyber Monday quindi non ci piove il 29 che era la data in mezzo era la domenica il 26 che è prima del Black Friday perché ci sono molte aziende anche tra i nostri clienti che hanno anticipato di un giorno addirittura hanno fatto tutta la settimana hanno fatto la Black Week e non il Black Weekend e poi il 9 dicembre che è una delle date diciamo top per volume di ordini perché è un po' l'ultimo bastione prima di Natale i giorni che vanno dal 4-5 dicembre fino al 10 massimo sono un po' davvero gli ultimi bastioni di resistenza nei quali facendo l'ordine più o meno ho la certezza che mi arrivi per tempo per il 24 quindi i ritradatari si concentrano dopo non si sa intanto che tu vai avanti ragazzi fate pure le domande io le vedo e poi le facciamo vorrei che Roby andasse un po' avanti col documento perché è molto interessante le facciamo successivamente fatele pure io comunque le vedo tutte grazie vai Roby allora poi ci sono invece i dati rilevati su tutte le nazioni nelle quali spediscono i nostri clienti quindi queste non sono tanto le nazioni di partenza di per sé della merce quindi i clienti che abbiamo nelle varie nazioni anche perché siamo attivi soprattutto in Italia e in Spagna quindi le località di partenza sono abbastanza limitate a queste due nazioni ma sono le località di arrivo perché ovviamente un e-commerce riceve ordini da tutto il mondo guardando quello che è successo all'estero nelle regioni europee il picco è stato il 27 novembre cosa in linea con l'Italia perché era il Black Friday per quanto riguarda invece con l'unica eccezione della Francia invece per quanto riguarda la Gran Bretagna e l'America che sono paesi anglofoni il picco è stato il 4 dicembre che è la settimana successiva a quella del Black Friday quindi è vero che nel Black Friday si sono concentrate magari le offerte però gli utenti hanno iniziato a comprare o meglio hanno iniziato a comprare hanno concentrato i loro acquisti e quindi si sono concentrate alle vendite il 4 dicembre quindi la settimana dopo probabilmente proprio per prepararsi all'avvicinarsi del Natale è curiosa questa cosa che in base alla lingua se anglofono o latina cambia questa questa caratteristica sì credo che sia molto legato al fatto ora Francia a parte ma la Francia va da sé come vedi a dicembre hanno fatto i top e il Black Friday è in quarta posizione Francia va sempre per tutto suo sì la Francia è un sistema a sé esatto e credo che dipenda molto da come viene percepito l'acquisto online in generale in questi paesi perché è vero che in America il Black Friday fa tantissimi volumi per via delle offerte ma negli ultimi anni almeno negli ultimi due anni questa cosa è un po' scemata a vantaggio degli acquisti che comunque vengono fatti in preparazione del Natale e non sono solo legati alle offerte tornando a quello che si diceva prima all'inizio che alle volte basarsi solo su pricing più basso non è una scelta vincente anche perché e questo è più diffuso all'estero che in Italia le offerte del Black Friday alle volte sono specchietti per gli allodole sono offerte molto vantaggiose ma su prodotti poco appetibili oppure e questo si può rilevare da sistemi di rilevamento prezzi e su questo ci aveva fatto una ricerca Davide Lugli che è un collega l'anno scorso con la sua società dove avevano rilevato che durante il Black Friday i prezzi addirittura si alzavano i prezzi di listino per poi essere scontati quindi quello che tutti hanno in mente che dicono ma poi magari mettono lì di lato con vabbè non fare il complottista non è vero che così invece è vero o almeno in parte o almeno in parte è vero ci sono le aziende su questo Amazon ormai ci ha fatto diciamo come il callo che alza i prezzi in corrispondenza della settimana al Black Friday per poi applicare degli sconti che sembrano molto vantaggiosi ma il prezzo di vendita non è molto differente da quello del periodo precedente quello precedente sì sì se uno però non tiene monitorato i prezzi in effetti non si rende conto di questa cosa e crede di risparmiare non è la sensibilità per poter gestire questa informazione ma è normale sì sì certo certo e per quanto riguarda invece le vendite fatte durante proprio il Black Friday prendendo solamente la giornata cioè dal 27 al 30 queste sono gli spaccati presi dai nostri clienti su Italia e Spagna come dicevo prima e si vede che all'estero c'è una predominanza degli inglesi c'è da dire anche che il 2020 credo che sia stato l'ultimo anno per gli inglesi per fare shopping diciamo selvaggio all'interno dei paesi della comunità infatti perché già a gennaio abbiamo avuto un crollo ora poi analizzeremo meglio i dati post Black Friday all'inizio di dicembre per vedere le nazioni a Naso secondo me questo qui sarà deportato del 50% perché le complicazioni che ci sono adesso per l'import o per le spedizioni in Gran Bretagna incidono tantissimo sulla volontà di vendere in Gran Bretagna quindi con offerte mirate o con spese di spedizioni che sono state alzate proprio per scoraggiare gli utenti o alcuni siti addirittura che hanno deciso di non vendere più in Gran Bretagna per evitare casini e allora guarda io ti dico che a gennaio 2021 alcuni siti fino al 15 di gennaio hanno interrotto completamente le vendite verso UK proprio completamente hanno tolto la possibilità di fare acquisti da quel paese per i casini legati alla situazione che non si capiva ancora come devono essere sottovanate le merci sì ma anche adesso credo sia del tutto sistemata visto i camion che non girano la benzina che manca c'è anche un altro problema capisco che vendere lì non debba essere in questo momento visto che non si è ancora stabilizzata la situazione non deve essere particolarmente semplice esatto altro dato interessante è quello del cambiamento dell'ordine questa qua è una delle cose più fighe che ho visto in questo documento non che il resto non lo sia ma questa qui mi ha veramente colpito perché mi ha portato i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso sì ora questa questione dell'ordine medio è molto interessante perché probabilmente nel nel Black Friday durante il periodo del Black Friday la gente grazie anche alle offerte preferisce fare degli acquisti mirati e non degli acquisti diciamo strutturali quindi non è che faccio scorta di qualcosa in previsione di tranne alcuni settori come Wine & Beverage e Beauty dove c'è un discreto aumento soprattutto Wine & Beverage c'è un più 17% dove magari lì approfitto delle offerte per fare scorta per il periodo delle feste perché magari metterò più vino a tavola o ne consumerò di più in quel periodo con giusta ragione con giusta ragione anche perché il periodo si presta molto esatto invece ci sono alcuni settori come per vedere per esempio il PET dove l'ordine medio abbastanza neutrale da questo punto di vista perché gli articoli tanto quelli sono anche gli sconti durante il Black Friday non è che ce ne siano molte sul cibo degli animali o sui prodotti ricorrenti gli sconti durante il Black Friday ne vedremo sempre pochi perché sono comunque prodotti che io comunque continuerò a comprare obbligato a comprare certo esatto non è che il mio cane o il mio gatto smette di mangiare o mangia di meno povera bestia quindi a parte gli acquisti diciamo a corollario come accessori per gli animali come possono essere i giochi guinzagli o qualsiasi altro tipo di materiale le cucette e quant'altro non c'è un vero discostamento sull'elettronica di consumo invece è interessante notare questa differenza anche sulla gioielleria perché il ragionamento che abbiamo fatto e poi confermato un po' anche da qualche intervista fatta da alcuni merchant è che a parità di prezzo a parità di prodotti che vengono acquistati ovviamente acquistandoli con un prezzo scontato gli utenti comprano più o meno le stesse cose ma ovviamente c'è lo sconto di mezzo che ne abbassa il valore medio dell'ordine questo non vuol dire che gli ordini che arrivano nel Black Friday sono più scarichi di prodotto ma semplicemente stanno beneficiando degli sconti del periodo esatto e ora veniamo alle previsioni dai dai questa qui è la parte che tutti aspettavano probabilmente allora le previsioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte su un campione di clienti analizzando le serie di dati storiche che abbiamo ormai sono sette anni che operiamo nel settore quindi abbiamo preso gli ultimi anni come riferimento gli ultimi cinque anni quello che è venuto fuori è che probabilmente ci possiamo aspettare per novembre un incremento degli ordini ulteriore rispetto al 2020 di circa il 17% per come sta andando il trend adesso ancora di più rispetto a un anno straordinario esatto perché è rientrata esatto è rientrata nell'abitudine delle persone l'acquisto dell'online l'utilizzo dell'online per gli acquisti cioè alla fine Robi scusami questa brevissima digressione la pandemia che è stata ovviamente una tragedia sì è riuscita a fare una cosa che chi fa il mio lavoro non è riuscita a fare mai è riuscita a far capire che si può vendere online che si può fare business di quel tipo che comprare online non è necessariamente più rischioso che comprare in un negozio e quindi la pandemia ha fatto in un anno cambiare le abitudini delle persone oggettivamente di fatto ed è una roba strabiliante se dobbiamo per forza vederci qualcosa di figo in questa pandemia per carità perché poi sì prendiamo gli aspetti positivi almeno quelli cerchiamo di analizzarli e ti dirò un'altra cosa quello che sto analizzando per quello che sta succedendo sul mercato non è solo il fatto che gli utenti si sono abituati a comprare online perché ne avevano le necessità e quindi l'hanno dovuto fare e quindi si sono abituati a una nuova modalità questo è vero assolutamente ma l'altra rivoluzione copernicana che c'è stata è dall'altro lato della barricata lato aziende perché le aziende si sono rese conto che l'online è un canale si sono attrezzate per vendere quindi non solo è aumentata la domanda da parte degli utenti ma è aumentata di pari passo anzi in maniera più importante l'offerta perché ci sono molte aziende esatto molte aziende prima non vendevano online o lo facevano in maniera destrutturata e comunque poco efficace adesso si sono dovuti strutturare nell'arco di un anno un anno e mezzo e lo fanno meglio sono molte più aziende che lo fanno e quindi è aumentata anche l'offerta va da sé che ovviamente i consumatori si trovano un'offerta maggiore e l'offerta crea la vendita l'opportunità di vendita banalmente senza dubbio senza dubbio e quindi quest'anno rischia di essere una figata dal punto di vista dell'e-commerce sì perché i trend sono tutti in crescita assolutamente e le prospettive sono sicuramente interessanti a novembre a dicembre ci sarà un leggero calo probabilmente da quello che abbiamo visto poi ovviamente sarà interessante a gennaio tirare le somme e vedere quanto ci abbiamo azzeccato perché la cartina torna sole poi bisogna comunque utilizzarla e vedere cosa è successo noi prevediamo un leggero decremento perché non essendoci tutto il casino dell'anno scorso con lockdown praticamente quasi completo a dicembre il picco e l'ondata di picco dell'anno scorso non si ripeterà quindi sebbene comunque andrà molto bene perché uno scarso 2% di riduzione rispetto all'anno scorso e ora rispetto agli anni precedenti ci sarà comunque un lieve decremento a gennaio invece forte della crescita del mercato in generale stiamo prevedendo un incremento dell'8% ulteriore sì considerando che poi ci sono i saldi che partono c'è una catena che va avanti ma ecco ok perdonami vai vai no no allora una cosa che noi ci teniamo a sottolineare è che ovviamente questo nuovo volume di ordini che arriva ai nuovi volumi di clienti che si possono attirare vanno poi monetizzati e vanno fidelizzati per poterli avere nel proprio parco clienti in maniera stabile quindi non solamente in un periodo dove magari ho fatto degli sconti per attirarli o altro quindi all'interno del white paper ora non mi voglio dilungare in questo momento perché tanto poi si può leggere ci sono delle ci sono delle indicazioni abbastanza pratiche su come si possono fidelizzare i clienti lavorando precedentemente sul customer care sulla qualità del servizio sulla possibilità di fare delle offerte mirate e quant'altro proprio per tirarli poi dentro e fidelizzarli e tenerli perché quello è il valore più grande infatti infatti perché il grande rischio è quello infatti anche il discorso del prezzo per tornare sul discorso del prezzo attirare tantissimo con il prezzo non è necessariamente qualcosa di funzionale perché si potrebbe semplicemente addestrare il pubblico a comprare online a prezzi per esempio bassi e poi dopo visto che tu non sei in grado di mantenerli così bassi per sempre vanno da un'altra parte certo quindi bisogna fare altre attività oltre al prezzo che per carità è un contimento ma non è il piatto esatto mi volevo concentrare solo sul quinto punto è anche corto quello che noi suggeriamo spesso è quello di avere una cura non dico maniacale però importante sul packaging perché è l'unico elemento di contatto fisico che c'è tra il venditore e l'acquirente quando viene consegnata la merce quindi l'esperienza dell'apertura del pacco è importante ma soprattutto quello che si trova all'interno mettere all'interno un piccolo gadget un piccolo regalo dei campioncini dipende molto dai settori ovviamente però fa la differenza perché fa tra l'effetto sì ok mi è arrivato tutto bene a caspita che esperienza che bravi questi pochi che carini che sono stati che mi hanno fatto un regalino sì sì sono quelle cose che ti cambiano completamente la percezione è l'inaspettato l'inaspettato positivo ovviamente in questo caso ti arriva la roba rotta quello è l'inaspettato negativo però anche lì si può lavorare su customer care per gestire meglio la criticità certo senza dubbio infatti ci sono alcune domande su questo che poi ti voglio fare dopo vorrei prima di passare alle domande parlare un attimo di sistemi di pagamento perché anche questa qui non è per niente una cosa scontata contrassegno o altri tipi di pagamento se hai qualche dato la darci allora vado direttamente ai dati sostanziali aspetta che vado in fondo a questa ricerca anche questa qui è scaricabile poi dal nostro sito o comunque chiedetecela tranquillamente infatti ragazzi se hai bisogno di qualcosa cioè infatti siamo ovunque esatto allora per quanto riguarda l'incidenza dei contrassegni che è una pratica particolarmente diffusa in Italia ma non siamo l'unico stato al mondo dove il contrassegno è principe ve ne cito uno il Giappone dove c'è un'incidenza del contrassegno anche del 30% in alcuni settori anche del 40% ora poi è vero che in Giappone non pagano tanto in contanti quanto pagano con la carta o con le carte alla consegna però è proprio la mentalità del pagamento alla consegna che in alcuni popoli è radicata in Italia per esempio lo siamo vuoi per diffidenza probabilmente o vuoi per necessità perché ci sono alcune persone che preferiscono utilizzare i contanti e non le carte perché non si fidano non dell'e-commerce ma del sistema di pagamento online in generale elettronico ci sono alcuni settori dove è particolarmente diffusa questa pratica per esempio l'incidenza dei contrassegni nel fashion è del 30% abbondante nella gioielleria del 24% se poi li andiamo ad analizzare su base geografica ora vi do giusto un sunto ci sono alcune regioni soprattutto al sud che hanno un'incidenza di contrassegno maggiore l'altra cosa che volevo farvi vedere è che i sistemi di pagamento ovviamente hanno a che fare anche con una certa propensione al problema che può essere generato poi in fase di consegna perché chi paga con la carta di credito è una persona che ci tiene 2000 volte probabilmente alla consegna ed è anche paranoica su quello alcune persone acquistano in contrassegno ma sulla parte di consegna sono molto poco attente magari hanno fatto davvero un acquisto poco convinto e in quei casi i tassi di problemi sui contrassegni come vedete qui sono alle volte anche di un 10 per rispetto agli ordini fatti con altre modalità di pagamento c'era una regione che sforava su tutti mi pare fosse la campagna con l'11 e 9 sì è su in alto la campagna che ha un tasso di problemi sui contrassegni molto più alto rispetto alle altre regioni comunque al sud il contrassegno è più pervasivo e il tasso di problemi è maggiore questo lo abbiamo analizzato perché ovviamente il contrassegno per molti che fanno e commerce magari verrà fuori qualcuno adesso che ce lo chiederà o ce lo dirà è un po' croce delizia cioè lo faccio o non lo faccio lo faccio o non lo faccio la scelta va fatta in base alle opportunità che si vogliono dare anche al proprio e-commerce perché visto che alcuni clienti non acquistano se non c'è il contrassegno ci stiamo precludendo delle vendite ovviamente quella modalità porta con sé dei problemi devo fare il match tra opportunità tra costi e benefici sì sì tra i rischi che avrei o i benefici esatto te ne dico solo una che non ha a che fare con le nostre analisi ma mi è stata condivisa dall'epoca country manager di Zalando in Italia ti parlo di sei anni fa quando Zalando introdusse il contrassegno in Italia da una settimana all'altro più 40% di ordini non ti dico altro con il contrassegno quindi grazie al contrassegno cioè questa cosa qua è pazzesca però Zalando ha fatto il 40% in più in Italia il 40% sfora dalle statistiche che stiamo vedendo adesso forse perché era sei anni fa o forse perché il tipo di pubblico richiede quello ma è pazzesco era parecchio tempo in là cioè si parla di cinque sei anni o meno avevamo appena cominciato con Kappa a quel punto non ti chiedi se farlo o no cioè lo fai e poi gestisci i problemi poi alla fine dell'anno o del trimestre o quello che è tiri una linea e fai i conti ho venduto tot milioni di euro e va bene quanta roba mi è tornata indietro quanti problemi ho dovuto gestire è sostenibile o no perché ovviamente quella è la linea di dimarcazione quanti mi hanno pagato con soldi del Monopoli esatto tutta la serie di problemi che si possono trovare in questa situazione è chiarissimo è chiarissimo grazie Robby hai altro da aggiungere in riferimento a questo l'unica è questa qui che trovate comunque sul documento perché abbiamo incrociato i dati con la diffusione del cashless in Italia nel 2021 e l'Italia diciamo che non brilla per quanto riguarda la diffusione dei pagamenti cashless in generale questo nel retail non solo sull'e-commerce e quindi da qui probabilmente anche l'utilizzo del contrassegno in maniera un po' più spinta un po' più spinta no ma questo qua purtroppo lo sappiamo che è così non c'è niente da fare allora facciamo una cosa se sei d'accordo passiamo alle sì volentieri domande allora ragazzi intanto ce n'è una di delle 12 e 28 Roberta Ronchi dice buongiorno oltre al food e al fashion quali sono gli altri settori industriali che hanno avuto un boom con e-commerce ma ho visto poi che successivamente gli è stato è stato risposto le è stato risposto sicuramente vino e bevande più 5% elettronica 95% dice Marco Bisogni sei d'accordo Roby immagino sì sì Marco è tra l'altro una delle persone del team marketing che segue in cap là proprio la parte degli osservatori ah ok perfetto a Marta che cito che non so se ci sta seguendo ma sono le due persone in cap là che seguono poi la parte dei numeri quindi vino e bevande 105% elettronica 95% i numeri veramente impressionanti allora torno a Roberta perché chiede come hanno reagito i distretti industriali e le commerce si sono notate sinergie tra le aziende del distretto che tipo di sinergie secondo te che reazione c'è stata io posso dirti quello che ho visto in giro vedendo le reazioni delle aziende parlando con qualche cliente e quant'altro quindi non ho un osservatorio con dei numeri da mettere sul tavolo un'opinione questa si è una mia è una mia opinione ricavata su esperienza personale quello che ho visto ci sono molti distretti soprattutto quelli che hanno a che fare con la produzione che va dal food ma anche alla produzione di vestiti quindi di abbigliamento e accessori che hanno deciso negli ultimi due anni di essere presenti online in maniera diretta quindi c'è stata un'accelerazione soprattutto nei distretti di produzione del food e come dicevo prima degli accessori da parte dei produttori per la vendita diretta o per la presenza all'interno di marketplace o di altri di altri siti ve ne cito una perché vino.com è uno dei nostri clienti insieme a Tannico nel settore del vino che sono quelli che sono cresciuti di più quello che mi ha riferito vino.com è che nell'ultimo anno hanno avuto una coda di richieste da parte delle cantine per essere inseriti in listino mostruosa come non vedevano da anni ma da anni quindi molte cantine in questo caso si sono rese conto che il canale online non può essere lasciato solamente ai distributori ma hanno l'opportunità di andare diretti anche per recuperare qualche punto di margine in più è chiaro è chiaro è chiaro chiede Augusto come mai avete un nome Klingon ho visto che le ha risposto anche Luca si si ho visto un chiamo vi faceva ridere questa cosa qua abbiamo un nome Klingon perché siamo nerd quindi quando abbiamo deciso quale nome utilizzare la scelta finale era tra un nome in orkish che era impronunciabile quindi non lo pronuncerò e Kapla che comunque era un nome evocativo che aveva anche a che fare con magari anche il suono sembra una cosa semplice e immediata il suono è perfetto io scriverlo come sai bene sbaglio si scrive senza la U sì esatto comunque vabbè ok grazie che poi vuol dire anche successo in Klingon quindi per noi era importante questa seconda valenza ma cosa vuoi di più cioè hai anche la lingua Klingon allora dice Gabriele quanti vettori sono ancora resistenti a condividere il tracking real time della consegna ma zero cioè nel senso diciamo quelli B2B quelli che sono abituati ad altri tipi di servizi soprattutto che fanno bancario consegne lente o altro ormai non è una questione di condivido non condivido ma è una questione di lavoro non lavoro perché da noi arrivano e questo mi ha fatto una scelta praticamente sì non è una scelta da parte del vettore perché è un servizio che deve offrire al cliente punto dove cliente intendo non solo il cliente finale ma soprattutto il tuo cliente che è l'e-commerce certo da noi sono arrivati i clienti storici che ci hanno presentato dei vettori diciamo secondari o comunque nati ultimamente ce li hanno presentati perché hanno detto guarda se riuscite ad integrare il call tracking non li usiamo se no non fa niente e per noi è un cambio completamente di di visuale di paradigma mostruoso da parte anche dei merchant cioè anche se mi fai un euro in meno sulla spedizione se non mi dai il tracking io ce lo rimetto in customer care non ho intenzione di rimettercelo ecco no no è chiaro è chiaro è chiaro e quindi non c'è più resistenza perché non c'è più scelta esatto esatto guarda prima di lasciare un'altra domanda sempre di Leonardo che che ripeto oggi è scatenato si vede che stamattina ha preso quattro caffè allora è carichissimo e dice la percentuale di acquisto online è ancora spostata a favore del pc fisso quanto è importante avere un'app dedicata per agevolare l'acquisto da mobile ecco questo non è vero nel caso quindi non del marketplace ma evidentemente del commerce proprietario ecco allora dei dati che noi stiamo avendo anche dai vari osservatori viene fuori che comunque l'acquisto da mobile è in crescita abbastanza importante soprattutto la parte di diffusione di consultazione dei siti di commerce da parte di mobile molti siti di commerce hanno il 90% di visite da mobile e il 60% di acquisti fatti da desktop però va da sé che se il sito non è fruibile da mobile poco si va lontano poi sulla chiusura dell'acquisto da un altro dispositivo che sia un desktop o un tablet l'app di per sé non è così importante a meno che non ti chiami davvero Zalando Yux o Big Brand per cui ha senso da parte dell'utente installare l'app anche perché alla fine noi sui nostri telefoni utilizziamo sempre le solite app di averne un'ulteriore icona non è che serva molto la cosa invece importantissima è quella di avere il sito mobile friendly o meglio mobile first cioè prima pensiamo il sito per il mobile il desktop verrà da sé ok quindi è importante che il sito sia responsive e che sia fruibile dal telefono anche perché questo lo ricordo magari a tutti quelli che si occupano di commerce e di marketing che ci stanno seguendo la maggior parte delle newsletter si vengono aperte dal telefono quindi se io dal telefono poi clicco e vado a finire su un sito che è ottimizzato per desktop e da mobile non si vede niente è lì la vendita persa esatto è chiarissimo è chiarissimo ci tengo a dirti una cosa Robby ho fatto tante dirette in vita mia era un po' che non ne facevo avevo proprio voglia di farla poi lo sai te l'avevo anche detto ed è la prima volta che ho visto il numero di utenti non solo stabile ma addirittura aumentare durante il posto te lo giuro te lo giuro non vedo i numeri quindi diverse decine di persone ti confermo che all'inizio erano un numero fisso e sono aumentate e adesso sono tornati al numero che era all'inizio quindi perfetto ragazzi io lo dico con tutti voi se avete bisogno di qualunque cosa vabbè a parte il documento che lo potete scaricare se avete dubbio perplessità di qualunque genere Roberto così come i ragazzi di Kapla eccetera li trovate ovunque online io sono a vostra disposizione per qualunque dubbio perplessità o ulteriore approfondimento nel caso in cui possa farlo perché non sono un esperto l'esperto è Robby Robby lascio a te allora io volevo salutare e ringraziare tutti per averci seguito visto che siete stati davvero in tanti l'ho visto anche dalle domande e dall'interesse suscitato vi invito ad approfondire visitando il nostro sito che è Kapla.it su quello che facciamo se vi interessa o comunque anche solo per vedere i white paper informativi che stiamo rilasciando nei prossimi mesi in più mi sbilancio e magari ci diamo appuntamento sempre con Rudy a gennaio poi magari la pianifichiamo questa questa io non lo sapevo poverino non la sapeva poverino però potremmo darci aggiornamento a gennaio magari con una secondo round per vedere prima di tutto quanto abbiamo azzeccato le previsioni perché ci piace metterci in gioco ma poi per vedere cosa è successo in questo 2021 a me l'idea piace un sacco dopo buttiamo giù le date grazie a tutti grazie Robby grazie ragazzi ciao metto una sigletta ascoltate 20 secondi di rock and roll ciao ragazzi ciao a tutti buon pranzo ciao 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 ciao